bambini siete pronti? sì ma siamo curiosi di dove si va! abbiamo preparato la borsa a frigo il cibo e quindi staremo via tutto il giorno al momento possiamo dirvi solo questo già ragazzi il resto è una sorpresa evviva mi piacciono le sorprese ok bimbi si parte andiamo che bella giornata di sole è vero wow raga dove siamo? ma è un parco assieme bambini inseduti molto di più ragazzi molto di più di un parco assieme vedrete ma è bellissimo pronti per entrare in una tavola? che bello 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 si è fatta bellissimo alena aspetta ci arriviamo è già entrata ragazzi noi siamo in Egitto facciamo subito una foto wow è vero vero papà il Gardaland Express wow è un mega trenino di una volta con la neve che meraviglia ragazzi guardate c'è ancora prezzemolo ok benvenuti il trenino express di Gardaland riempite pure tutti i vagoni guarda papà è stato un gigante wow ciao amici iscrivetevi al nostro canale così potete vederci ancora e vedere nuove puntate vi aspettiamo ciao 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 ciao